Marco Travaglio, in apertura salutiamo quello che probabilmente è stato il più grande calciatore di tutti i tempi, Maradona, che se n'è andato oggi. Che cosa abbiamo perso e chi è stato, cosa ha rappresentato, non solo per il mondo del calcio? Quando muore una divinità, qual era sicuramente Maradona per il mondo del calcio, devo dire che più parole si dicono e più aumenta il rischio di dire delle banalità o di cadere nella retorica. Io l'ho visto giocare molte volte dal vivo perché lo vedevo come avversario, essendo io juventino, e quindi allo stadio di Torino veniva con il Napoli e ovviamente era una minaccia, poi diventava una minaccia per noi tifosi della nazionale di calcio quando ce lo ritrovavamo contro e quindi io tifavo per Gentile ovviamente nella partita Italia-Argentina, che fu poi seguita dalla vittoria italiana del 1982 al Mondiale di Spagna, quindi ero molto contento che Gentile gli abbia praticamente impedito di giocarla quella partita, marcandolo molto stretto. Penso che quando un calciatore ha quel monumentale talento nei piedi e purtroppo non altrettanto nella testa, quel calciatore di quel tipo lì debba morire subito appena appese le scarpe al chiodo perché poi rischia di rovinare tutta quell'aura di magia che si è portato dietro fino a quando giocava a pallone e sicuramente Maradona ha dilapidato con le sue disavventure esistenziali la sua figura che però ogni volta che si rimostra il Maradona calciatore ritorna, per cui si vorrebbe ricordarli in campo quei talenti, quei maghi, quando poi li si vede nella vita quotidiana deludono, quindi forse il calciatore era morto da diverso tempo, quindi che cosa perdiamo? Abbiamo perso tutto quando ha lasciato il calcio.